Ah già perdere adesso, vai via te, vai via, già perdere adesso mi andrebbe più o meno bene, sono 9 win, 9 win Non è che questo fa schifo uguale, però fa meno schifo di Antonidas, tre coinarlo, questo, non avere il pirata Eh effettivamente questa è buona col Rogue perché il Rogue lo usa per forza di cose il potere eroe, prima o poi lo userà, quindi me Acolite? Beh Acolite è automatico questo Tra un turno posso fare moneta 6, oddio se non è un removal è... ah fuck Wow eviscerate, eviscerate su 3-2 Non mi piace giocarlo così, il piloted però, fuck, non ho alternative Cioè avrei potuto fare sorcerer e mirroring, ma così almeno mi rimane un minion, mi rimane un qualcosa Eh fissato eh, hai fissato comunque la carta, la vuole avere in campo a tutti i costi, basta Non ha, non ha eviscerate per il... Oh mio Dio Antonidas Ok ha fatto una play un po' yolo Però adesso lui non ha niente in campo, deve mettere qualcosa di enorme Cioè tecnicamente è a 6 mana Se mette qualcosa di enorme, fuck Non quel coso Che schifo Va bene, va bene uguale, va bene uguale, va bene uguale Np, perchè adesso glielo traddo E c'ho lo sky golem a... piazza pulita, si E posso usare una moneta per proccare Antonidas, così ho due fireball in mano Che è già worth, cioè è già worth, avere una fireball in più con la moneta Ha un'altra eviscerate Ha un'altra eviscerate Ottimo Holy shit Ancora meglio Ok Ma che ci siamo quasi Antonidas I promise È quasi il tuo momento Your time to shine Vi devo far usare tutti i removal possibili Così metto Antonidas e le free Ok non ha removal Non può avere removal Oh Oh The dream Io grido ancora di più Voglio gridare come pochi Non mi interessa Madonna Ti prego togli i miei lo ieti Anzi È pure ottimo Perchè nel caso in cui Magari ha top deck Un altro removal Perchè è un roco alla fin fine Lo uso sul 4-5 Quello è quasi Quello è quasi Ok Ok Tutto tranne Ok quello va bene Mi vergogno un po' Un po' Un po' Mi vergogno Ma Ma solo un po' Ho 3 fireball in mano Fuck you Sì ma è morto A lui non lo sa che Lui non lo sa che Ho un'altra fireball in mano Non lo sa Poi un HP è il classico Adesso si curerà Metterà immunità Avrà Malganis Yes 10-1 10-2 Quella di prima non la conto come scomplita Dai è giusta Ho dei 3 migliori No Che schifo Oh che schifissimo Orrendo Mamma mia Che brutta roba Vada Oh Figo È un paladino Quindi magari avrà No Ah Sono tentato Sono tentato Veramente È un paladino Avrà la spada Cioè È un classico Specialmente a 10 win Cioè Non può non avere la spada E in questo caso È meglio mettere lo Yeti E non lo Shredder Perché nel caso in cui Ha la spada Questo me lo può togliere Questo no Deve sacrificare per forza un minion Quindi è meglio questo E quello me lo tengo lì Se fa i cazzi suoi Non mi interessa Fa quello che vuole Lui ha sempre la moneta Comunque Amaro Ci ha guadagnato Però almeno Perde il 2-2 Poteremente Mentre sia Oddio è afke È afke No Blizzard Ci sta bene qua il blizzard Ci sta bene Fanno una fireball Ah un po' nei casini Eh Cosa Ah Ok Ah invece la uso Cosa 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 Grazie a tutti. Scusate, telefonata importante, ok? Bastardo, c'è il 4-2 e ovviamente lo manco. Ha pure pescato. Ah... Tazdingo! Yes! Reporting for duty. It's getting hot in here! It's getting hot in here! Ok... 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 Ready, sir! 4-6... Cazzo, ho perso! Ho perso veramente! Fuck! Come ho perso! Ah... 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 Pacchetto classico! Due scatole! No! Ho sbagliato! Ah! Dammi quel wisp! Dov'è? Dov'è? Che schifo! Ok... No, 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 no. No, no, no. Ma non va bene. Voglio il mio premio! Eccolo qua! Vaffacchio! No! Non è questo! Dov'è il mio vero premio? Hanno cambiato l'animazione di apertura! Un altro! Eccolo qua! Il mio pacchetto è 10 win! Eccolo qua! Eee... Un cazzo! Due mouplers! Va bene! Quindi questa era la fine dell'arena! Mage finita... Bene! 10 win! Finita bene! E da qui è tutto! Ci vediamo alla prossima! Ciao ciao! Ciao ciao!